se urli tutti ti sentono se bisbigli solo chi è vicino ma se sta in silenzio solo chi ti ama ti ascolta apriamo la nostra settimana con una massima di gandhi se urli accento sulla u tutti accento sulla u ti sentono prima è aperta se bisbigli se è chiusa raddoppiamento della b bisbigli solo o chiusa chi è vicino raddoppiamento della v ma se raddoppiamento e la e chiusa anzi ma se stai raddoppiamento anche dell'altra s ma questo viene abbastanza naturale in silenzio prima è aperta l'unica solo o chiusa chi ti raddoppiamento ama ti ascolta o chiusa